Non accenna a diminuire la polemica il dibattito politico fra Lega e Movimento 5 Stelle, i cui esponenti, seppur allegati al governo, non manca l'occasione per scambiarsi in frecciate praticamente ogni giorno. L'ultimo scambio di battute a distanza riguarda il Vice Ministro all'Infrastruttura e Ligure, già assessore regionale allo sviluppo economico, Edoardo Rixi. Per Rixi a fine maggio si prospetta infatti la sentenza del processo per le cosiddette spese pazze della regione e il Movimento 5 Stelle ha già messo le mani avanti dicendo chiaramente che in caso di condanna il Vice Ministro si dovrà dimettere dall'incarico. Rixi dal canto suo ha replicato che svolge l'incarico di Vice Ministro perché glielo ha chiesto Salvini e farà quello che Salvini gli dirà di fare. Per Edoardo Rixi l'aspetto principale non è la sua poltrona ma piuttosto l'avvio di importanti opere per far ripartire il paese.